piccola roba tipo adesso ho slainato gente d'accordo picchiandola facendo missioni abbastanza anche del cazzo qua del garrison non l'ho registrata perché tanto era tipo parla con tizio che ti fa vedere un filmato stupido di 10 secondi per poi picchiare il mostro grande che dato che sei un equip immenso te lo fai in un attimo comunque in pratica ho fatto consegnando una missione una lista di achievement infinita tipo garrison campaign hai preso cio luna che non ho idea neanche di che cazzo abbia come tratti eccetera eccetera mi hanno dato questa sacchetta di di cosi d'accordo che mi ha dato 500 gold a caso completamente questo coso qua che adorni un follower con questo necklace e lo upgrade immediatamente a livello epico e in più me l'ho dato una spada che si chiama sanketsu d'accordo che se vedete è molto in piccolo d'accordo come iconetta presenta la stessa diciamo così silhouette della lama zangetsu che è praticamente un come si dice l'arma di uno shinigami all'interno del manga e anime bleach d'accordo che è tra l'altro un manga e anime che io vi consiglio perché veramente fico io ho guardato solamente il l'anime d'accordo e il seguito poco e l'anime è pieno di filler però è una roba bella e tamarra come poche cose sanno essere e uno dei personaggi tra i più tamarri a questa cazzo di spada che si chiama zangetsu e quali hanno reso un omaggio anche perché dentro world of warcraft tutto quanto ha un omaggio d'accordo anche le spade degli anime sanketsu quindi anche in più se vedete quel cazzo di di coso d'accordo di di anime probabilmente dato che ci sono un sacco di generali di divisioni e di e di robe strane che per le quali praticamente si può parteggiare nel senso che è impossibile che tu non trovi il tuo preferito se vi domandate qual è il mio il mio si chiama zaraki kenpachi e probabilmente guardando il film o il comunque sia la serie di anime se arrivate di fronte a zaraki kenpachi a un certo punto vi sarà piuttosto noto il perché a me piace zaraki kenpachi insomma quindi purtroppo non potete fare a meno di di vedere questo questo cazzo di coso se volete sapere perché mi piace zaraki kenpachi e sennò pazienza insomma ve la potete anche infilare nel culo tanto io ciò sanketsu comunque mentre mi stupisco delle dei paesaggi spettacolari di pandaria io ho dato che non ho niente da fare di particolare mi sto sia documentato sulla storia di natpagle perché volevo fare un episodio dedicato al mi pare signor rustichelli ma non sono sicuro che si chiami così come nome e cognome sia sto facendo gli achievement appunto oh dio santo di esplorare le cose profeta karzul va bene e dopo che abbiamo visitato il profeta gargiulo cosa c'è da esplorare questo l'abbiamo esplorato no vedete mancano questo puntino qua perché un poco marroncino questo qua forse non lo so poi c'è questo e c'è questo vediamo vediamo non piace esplorare pandaria pandaria è uno di quei paesaggi d'accordo che al di là di non stancar mai è rilassante in una maniera incredibile prima mi sono fatto una cavalcata sulla grande muraglia cinese ed ero veramente uno spirito in pace con l'universo tra l'altro forse questo è il video che per la prima volta sancisce la fine di quel fastidioso bug mentre qui navi dell'alleanza e dell'orda si picchiano che praticamente mi faceva andare in casino il mouse d'accordo avanti indietro perché ho scoperto che per un'impostazione del cazzo il mio world of warcraft era sì a tutto schermo ma aveva anche l'opzione windowed windowed d'accordo cioè a finestra windowed cosa che probabilmente sbarellava la mia scheda video in teoria adesso ho messo full screen e basta quindi se adesso vedete il come si chiama qua il cursore che quando dovrebbe rimanere fermo rimane fermo significa che ho fissato questa cosa qua ed è bello insomma comunque sia questa qua magari un'espansione per bimbi minchia come l'hanno come l'hanno definita tante volte ma io trovo che sia di una bellezza quasi poetica cazzo cioè adesso per esempio siamo naturalmente arrivati negli unici alberi in tutto quanto il gioco che sono fatti alla cazzo perché sono fatte coste texture piastrellosa incastrate una davanti all'altra che fan cagare però anche le scogliere tipo sono proprio texturizzate in sta maniera terribile però al di là di questo ci sono le cascate ci sono le storie ci sono i cazzi e sono belli cazzi dovreste chiederlo ai vari omosessuali insomma che che girano per il cosmo io sono contento che esistano gli omosessuali perché mi rendono colorata l'esistenza io sono etero mi piace la ficca però prendete non so freddy mercury prendete prince prendete david bowie se questa gente non fosse palesemente omosessuale la loro essenza sarebbe in qualche modo più più smorta capito per il semplice fatto che sta gente è diversa dal solito perché diverso non vuol dire sbagliato ma diverso vuol dire diverso vuol dire non uguale per il fatto che sta gente è non uguale in qualche modo ti rende più bello il come si dice il che cazzo è sto posto che figo sembra calcareo ti rende più più colorato il cosmo insomma dovresti andare al gay pride quello la di della spagna perché quello italiano è una specie di manifestazione anti clericale con anche delle vette di cattivo gusto non indifferenti invece tipo in spagna cioè sono gay ma fanno tipo una specie di carnevale mega coloratissimo e dove è fico stare tipo se non fosse che è pieno di gay di lesbica eccetera eccetera il avete capito insomma poi naturalmente è figo perché ci potrebbero essere delle mamme d'accordo che che vedono che voi vedete che figo aspetta proviamo ad andare in cima che mi piace ecco adesso cavalchiamo guardate che meraviglia non so non vi sembra bellissimo adesso tipo io mi metto qua guardate dai non mi potete dire che non è bello questa cosa qua e dato che noi siamo in world of warcraft e via possiamo metterci a volare capito questo è bello dicevo ci sono delle mamme che magari tipo sentono questo tipo di discorsi e dicono ecco è diseducativo perché parli di cazzi e di fiche dico signora deve scopare di più perché non è mica possibile che rompa il cazzo suo figlio che vuole vedere un tizio che disquisisce del mondo mentre gioca world of warcraft anziché è ha capito che comunque se cioè il fatto stesso suo figlio che sta redarguendo si dice redarguire redarguendo quindi sì penso che sia il gerundio non può redarguire suo figlio del fatto che sia sbagliato scopare con chi le pare perché lei che ha scopato con chi le pare insomma poi è venuto fuori il suo figlio che sta redarguendo appunto e quindi capisce bene che se rompe il cazzo suo figlio questa roba qua cioè è non sente l'ipocrisia di fondo è il fondo dell'ipocrisia quindi sia ecco esplora la foresta di giada che meraviglia oddio questo no questa è la cosa del che dite un giorno di questi andiamo nell'isola del torneo dei pokemon a fare il torneo dei pokemon sarebbe da fare secondo me questo l'ho esplorato vero questo l'ho esplorato questo l'ho esplorato cos'è che ci manca ad esplorare ho esplorato tutto forse l'isola dei no l'isola del tuo non l'ho fatta che cazzo manca ad esplorare ancora boh vabbè si no guarda se tra bestemmiando però mi cazzo vabbè non fa niente allora innanzitutto come stai caro blupiro shock io bene bene caro com'è che ti cancrazio pancrazio 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 come stai pancrazio bene bene sono contento lei signor signor al foro temistocle temistoleta in grazio mamma mia la coppia che scoppia allora mi chiamo un pg temistocle lo chiamo cacaio perché mi serve solo per la banca di tutta la merda i famosi pg banca che avevo anche in cosa allora prima di andare via per le vacanze intorno al 13 di ottobre mi sono reso conto di aver fatto 150 vittorie all'interno di draenor che sono sufficienti per sbloccare il serraglio livello 3 però me ne sono accorto ieri cazzo con le dovute bestemmie quindi buongiorno serraglio buongiorno aspetta da 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 menagerie tra l'altro perché menagerie a livello 3 mentre io perché si chiama menagerie a 3 si menagerie a 3 e invece in italiano il serraglio che è bellissimo purtroppo però non mi dà la missione io l'ho fatta prima d'accordo in maniera tale da da poter hai capito fai un reload faccio un reload tu pensi va bene facciamo un reload ascoltiamo il signor tancrazio pancredi come cazzo vaffanculo tancrazio 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 facciamo un reload ho fatto un reload niente infatti va bene grazie per il tuo consiglio di merda vabbè no magari funzionava invece vabbè dopo riavvio per vedere se funziona tutto quanto ma il centro di questo breve ciclo di registrazione perché sapete che io per world of warcraft tipo registro e poi metto tutto quanto insieme un altro a parte il fatto cristo il signore oh mi è riuscita la missione al 99 per cento sono molto felice peccato ecco ho 10 abrogator stone ora che cazzo sono le abrogator stone ah tra l'altro vedi un po te io non lo so cosa sono le abrogator stone ah che ne so pensavo stessi facendo tipo una domanda retorica no non era una domanda retorica è una domanda domanda è una domanda domanda allora aspetta un attimino incresa success no e voglio ecco questo che così si aumenta e questo aspetta un attimo eh ah fantastico bellissimo ok sto tipo mandando a expare le navi perché ieri tipo ho mandato delle navi in missione e percentuale di riuscita 91 per cento e sono affondate entrambe eh si a me oggi una viene affondata tipo al 97 per cento si ma cioè nel senso quando succedono queste cose poi dite che non devo bestemmiare certo che bisogna bestemmiare ecco adesso questo qua il 98 per cento io le mando perché il 98 per cento è alta come percentuale d'accordo io le mando all'85 no 85 è già diritto riescono vabbè allora sei fico che cazzo vuoi che ti dica il problema è che al 93 poi ecco ok questo niente e queste vediamo allora cento per cento ho preso il garrison resources garrison resources 1500 esperienza tanta esperienza godrich weaponry o abrogator stone allora si dimmi che cazzo sono queste abrogator stone che sono ti servono in poche parole per per l'anello mi servono per l'anello quindi vuol dire che io per completare la missione dell'anello leggendario ho bisogno di molte di queste abrogator stone esattamente e le trovi allora con missioni dei follower che te ne danno tre circa che infatti ho trovato ok quelle delle navi mi sembra che da 8 a 12 almeno io le ho trovate io le ho trovate da 10 ma va bene ok vabbè sempre buono e poi netro te ne danno 25 a volmar il logre quello ciccione però spendendo 15.000 pexis 15.000 pexis cosa che ti conviene così penso che fine settimana ci riesci giornalmente me ne danno quella cifra di no 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 una volta a settimana per questo ti ho detto sbrigati perché domani c'è il reset una tanto così eventualmente così eventualmente se non ci arrivi tipo per poco e vuoi spendere 15.000 li spendi e allora adesso vado a volmar e poi facendo looking for ride in su height maul che sono tre ride e in questi tre ride i boss ti danno le stone i boss quelli principi diciamo quelli prima te ne danno una poche mentre quegli altri me ne danno ovviamente di più i boss finali te ne dovrebbero dare di più ma con la mia fortuna io ne ho sempre beccate uno o due ma certamente e insomma anche la mia non è che sarà da meno è una volta 5 quindi ti ho detto locca ora che io già io sono già locato io sto facendo cose all'interno del mio come si dice del po della mia casa della mia caserma del mio garrison del mio come si chiama in italiano il garrison guarnigione guarnigione esatto allora io devo andare a volmar hai detto è sì andiamo a volmar guarda com'è il nome del mio nuovo pg adesso guardo qual è il nome del tuo nuovo pg aspetta che si sta ancora caricando questa cosa qua gli abrogator stone sono una valuta come potrebbero essere gli apexis o sono un oggetto fisico che è nell'inventario no sono un oggetto fisico che è nell'inventario ah cazzo ed è a stack magari oppure sì 125 in un solo stack ah ok boh allora no 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 copitivo ho 25 sacchette va bene va bene va bene allora volmar è il posto dove noi di solito andiamo a prendere le missioni vero sì se si sblocca sia la mia cosa che tipo dillo che stai registrando orario normale stavolta umano vabbè ma la gente lo vede dal dall'orologio in te in linea teorica però sì story sto registrando che è pomeriggio metà pomeriggio fine pomeriggio chissà come mai sì non so tanti like solo per questo sì oggi metà dei like perché sto registrando orari umani eccoci qua ah tra l'altro ci sono come si chiama tutte quante le missioni perché devo ancora fare le giornaliere ma non è un problema ma prima ti fai looking for ride aspetta che perderò tempo per fartele fare perché sennò tu non le fai più hai fatto già lo farai più che bene però aspetta un attimino perché devo ancora prendere le unseen influence che questa qua è pericose degli apexis poi qui dentro c'è un'altra missione madonna quanto lago chiedo scusa adesso si sta caricando tutto quanto z goal o rovine di kranach quello che da più apexis sono uguali se non te lo dicevo e allora vedi tipo la missione che ti dà quella di fuori che cazzo vuole si hai ragione le denti cose del genere hai ragione hai ragione hai ragione tra l'altro adesso c'è un ciccione con un punto esclamativo sulla testa quindi per cui probabilmente è quella con l'arancione sì sì eccolo qua allora buongiorno 5 abrogator stone cluster che ognuno di quelli te ne dà 5 e ti può droppare anche questo il boss per looking for ride che ovviamente più alti li fai tipo normal e cose così più te ne dà e gli abrogator stone cluster immagino che siano mettili ah no break into individual abrogator stones aprili cliccaci e li apri ah che sono ok queste qua ne ho preso 5 ah sono sempre da 5 i cluster sì 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 ok 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 e quanti potrei portare 15 mila che volevo portare magari normal è che non penso ti prendano con item level così basso non è un problema però devo comunque dovrò comunque prima passare dal 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 garrison perché gli devo vendere la mia merce eccetera eccetera cos'è cazzo è che dicevo questa qua ma vendilo la volmar no come si no ma ho tipo erbe che voglio tenermi in banca ah ok in questo senso tanto io sono con il mio pg cacaio ecco ecco perché il merdaio mi diceva i nomi inappropriati devo fare gli iron ord orc ok il porto vabbè due minuti ci stiamo si no volevo dunque quindi aspetta e z goal non volmar giù no come cazzo è che si chiama ma uguale z goal o rovina di crannac z goal quello che ti piace di quello non proprio facciamo rovina di crannac ok allora niente ma volevo fare io z goal eh? io volevo fare z goal ma allora vaffanculo dimmi che faccio z goal fare z goal facciamo z goal no sto scherzando sto scherzando è un animale del cazzo eh teodo no com'è che è tancrazio te mistocle te mistocle grazie te mistocle